ciao ragazzi bentornati in denar zone oggi andremo a scoprire il nuovo playstation plus andremo a navigare tra i tre nuovi livelli che comportano un abbonamento ciascuno e vi darò degli spunti brevi ma diretti quindi andremo a scoprire che cosa contiene ogni livello di playstation plus e vi dirò un consiglio se e cosa vi conviene fare mi raccomando rimanete fino all'ultimo perché vi lascerò il trailer del gioco dell'esclusiva che uscirà la prossima settimana sul canale come sapete su denar man sul canale di denar man escono molto spesso novità in esclusiva qualche giorno prima quindi rimanete sintonizzati per capire che cosa e conoscere che cosa uscirà la settimana prossima allora ragazzi prima di tutto andiamo sul playstation plus allora come vedete ci sono tre nuovi livelli premium extra ed essentials allora io partirei dall'essenzial l'essenzial è sostanzialmente il vecchio playstation plus cioè quello che avevate prima avete la possibilità di condividere ai giochi avete il memoria la memoria di archiviazione sul cloud vabbè l'assistenza chiaramente potete giocare online avete dei pacchetti esclusivi cioè ogni sette ogni mese scusatevi escono dei giochi nuovi con degli sconti nuovi giochi gratis alcuni playstation 5 alcuni playstation 4 insomma quindi avete due barra tre giochi ogni mese e più avete delle espansioni e delle espansioni scusatemi omaggio poi che chiaramente scadono ogni mese quindi dopo alla scadenza del mese viene aggiornato il tutto e quindi se non avete scaricato viene perso tutto quanto ma comunque immagino che ormai quasi tutti abbiate il vecchio abbonamento playstation plus avete sconti esclusivi quindi comunque ci sono sempre dei giochi in sconto che potete pagare un pochino di meno rispetto all'offerta di catalogo e appunto i giochi mensili che chiaramente io ho incluso nei pacchetti esclusivi che sono le espansioni e quant'altro e avete playstation plus collection che sono praticamente i migliori giochi del playstation 4 che sono stati riportati su playstation 5 che avete potuto scaricare gratuitamente questo è l'essenza il poco da dire perché tanto comunque l'abbonamento che se volete giocare online dovete avere obbligatoriamente questo è il punto di partenza poi c'è l'extra che diciamo è la cosa insomma il pacchettino un po più l'aggiornamento un pochino più giamo minimo dove c'è un catalogo di giochi playstation plus quindi avete praticamente un catalogo dove potete giocare diciamo che è un po il playstation one di prima no avete praticamente diversi giochi da poter giocare in streaming o scaricare come vedete c'è spider man miles morales e quant'altro voi potete tranquillamente ordinarli dalla a alla z ma io metto così al volo per vedere insomma e ci sono tantissimi tantissimi titoli da poter giocare ok adesso vi faccio vedere qualcuno così andando un po giù c'è con a knack e little big planet mafia 3 spider man miles morales e insomma di giochi su questo caso qua ce n'è per tutti i gusti c'è ride 4 e quant'altro ok questo è l'aggiornamento extra ok che comporta solamente in aggiunta al playstation plus essenzial cioè al classico solamente questo catalogo in più diciamo solamente insomma un bel po di giochi in più poi c'è il premium che comporta lo streaming nel cloud cioè ovvero possiamo giocare senza scaricare sulla piattaforma playstation i giochi ok quindi praticamente andiamo sullo streaming abbiamo tutta la nostro il nostro catalogo dei giochi che possiamo giocare direttamente in streaming senza scaricarli e poi abbiamo il catalogo dei classici che adesso andiamo a vedere più nel dettaglio dove praticamente avremmo a disposizione tutti i giochi playstation one playstation 2 playstation 3 e se non sbaglio anche psp a disposizione ok e in più abbiamo a versione giochi di prova ovvero abbiamo un tot di ore di prova per alcuni giochi adesso facciamo così avviene più viene meglio la grafica abbiamo praticamente in questo caso questi 15 giochi che possiamo provare prima di acquistare ovvero che ne so mi interessa wrestling ok vv2k i2022 ok ho praticamente con questo abbondamento la possibilità di provare per due ore il gioco vedere se mi interessa poi posso comprare fisico o digitale questo a discrezione ma abbiamo questo tipo di possibilità ok quindi abbiamo la prova di gioco di questo qua per esempio due ore che ne so chiaramente se andiamo su un gioco più longevo tipo horizon ok forbidden west abbiamo cinque ore di prova perché chiaramente è ovvio che se ti do due ore non ti do neanche l'idea di capire com'è il gioco quindi chiaramente più il gioco è longevo più c'è più storia diciamo più c'è storia e più chiaramente ci sono ore di prova ovviamente mi pare che il massimo siano cinque wonderland queste sono due ore proviamo a vedere pure su cyberpunk le ore di prova sono come vedete cinque perché più si va più il gioco è longevo come vi ripeto più chiaramente vi devono dare possibilità di provare il gioco quindi le ore sono un pochino di più ok quindi questi sono praticamente questa è la versione di prova dei giochi poi come vi dicevo la cosa molto molto importante è il catalogo dei classici ovvero se andiamo adesso vi faccio vedere molto velocemente ok sulle raccolte abbiamo a ben tutti i vari generi e abbiamo eccoli qua il catalogo ps1 ps2 e psp poi abbiamo i remastered e i ps3 ok allora noi entriamo per esempio su playstation 1 e ps2 ok andiamo che ne so su dall'ala z e ci abbiamo tutto ragazzi un catalogo di giochi ecco in questo caso diciamo che arriva fino a worms non so chi abbia giocato a questo a questi giochi warms warms apageddon tekken 2 che ne so c'è toy story everybody's golf diciamo ce ne sono diversi ok questi sono per playstation 1 e per playstation 2 per psp chiaramente un catalogo che verrà aggiornato ragazzi va da sì che è ovvio che io vado a giocare a che ne so ma ne prendo uno a caso ecco a sifon filter ok vado a giocare a sifon filter faccio l'upgrade ci gioco bello tutto figo ok per i peri nostalgici e va da sì che sicuramente la grafica è comunque quella di playstation 1 o playstation 2 o psp quindi comunque per chi è abituato a giocare a playstation 5 a playstation 4 considerate che c'è comunque comunque una differenza di grafica notevole che riscontrerete quindi bello per i nostalgici ti fai una partita però non lo so cioè prenderlo per quello che è ok c'è ovvio che se uno gioca ha giocato gioca solo ai grandi classici gioca solamente a console retro perfetto è sicuramente una sezione immancabile ok è un abbonamento che va fatto poi ci sono comunque i rimastered come c'è uncharted mafia 2 mafia 1 resident evil sono veramente diversi via ci sono veramente diversi di giochi ok considerate cioè batman considerate che comunque la piattaforma è uscita adesso quindi sicuramente in continuo aggiornamento ora questi sono i primi titoli che sono usciti ma vedrete che ne usciranno tanti altri e poi c'è il catalogo ps3 anche qui sicuramente i titoli non saranno tutti ma considerate che catalogo ps1 ps2 ps3 è immenso quindi di giochi ne possono uscire a un fottio veramente li possono buttar dentro con la pala ora sicuramente è l'inizio ma vedrete che col tempo verrà aggiornato alla stragrande il catalogo vedete ci sono comunque e so c'è mickey mouse c'è karts ha preso proprio i giochi everybody's golf ha preso proprio i giochi più conosciuti e lego batman e ma diciamo che ripeto di giochi ce ne sono tanti c'è rain c'era da duel e resident evil chronicles siberia che è un gioco eccezionale ecco questo è un gioco farei l'abbonamento magari per giocare a questo gioco questo sì perché questo è un gioco sicuramente splendido ho giocato ho finito per pc anni fa lo riprenderei per rigiocarlo comunque come vedete quindi di giochi ce ne sono veramente parecchi e c'è resident evil questo ad esempio non ho mai giocato the dark side chronicles ripeto titoli in questo caso a livello di classici ne trovate veramente veramente tanti ok ci sono tanti tanti classici voi praticamente quando volete fare questo tipo di cosa andate su vabbè vantaggi aggiorna e no questo ci dà l'extra aspettate vi voglio far vedere i pacchetti esclusivi scusa ok voi andate e praticamente vi trovate davanti a questa schermata cioè l'essenzial in questo caso io al momento ho l'essenzial l'extra un mese come vedete pagate 3 euro e 66 in più per avere il catalogo il catalogo di giochi ok vi ho fatto vedere prima come ride insomma quelli più nuovi e il premium che praticamente vi dà 5 euro e 86 in più al mese ok e dove vi dà tutto il resto cioè oltre a tutti i giochi più nuovi oltre a che ci stava oltre al catalogo dei classi giocare a streaming in streaming sul cloud piuttosto che scaricarli e per versioni di prova dei giochi ecco anche questa potrebbe essere una cosa interessante ma obiettivamente non vado a fare un abbonamento di 6 euro solamente per fare versione di prova dei giochi cosa voglio dirvi allora l'essenzial è sicuramente abbonamento che devi avere nel senso per me l'essenzial appunto si chiama essenzial perché essenziale da avere la playstation senza avere la possibilità di giocare online si va bene tutto bello però ti precludi un mondo di cose tra cui le uscite mensili che molto spesso i giochi mensili sono molto molto interessanti adesso la prossima settimana vi porterò qualcosa adesso che abbiamo finito the query sicuramente uscirà un po diciamo dei titoli diversi a parte la megante prima che uscirà poi la settimana prossima comunque ci sono sempre dei giochi molto molto interessanti ci sono sconti esclusivi e questo è quanto quindi l'essenzial va fatto pacchetto extra allora ragazzi la cosa che va sottolineata è che non prendete il playstation plus il nuovo playstation plus per il xbox game plat game pass perché non lo è non è il xbox game pass scusate me stavo impappinando perché sì che ci sono un catalogo di giochi ci sono tanti giochi ok anche recenti come ripeto spagnolo morale recenti si fa per dire c'è death stranding c'è reddition 2 c'è nba 2022 sì questo sì c'è eternal questo sì ma chiaramente non è un catalogo dove che sostituisce i giochi al day one ok cioè se a me piace giocare un gioco al day one o se non è al day one al secondo alla settimana dopo a dieci giochi a dieci giorni dopo questo non è l'abbonamento giusto cioè non farò questo abbonamento per avere le novità subito ok perché qui i giochi usciranno ok quelli che escono al day one oggi usciranno dopo sei mesi dopo otto mesi dopo un anno cioè se fate caso per esempio c'è dei scan c'è che ne so di titoli ce ne sono diversi c'è little hope vabbè mad of metan però sono giochi c'è ad esempio io voglio fare un controllo adesso perché non l'ho visto sto vedendo adesso con voi se io vado a vedere che ne so andiamo sulla t se c'è carica magari voglio vedere tipo a livello di della sua fase a che punto siamo no ora per prendervi un titolo a caso poi vi spiego anche perché vi faccio questo tipo di esempio ok rs t ok aspettate ok perfetto perfetto della sua fase per esempio non c'è ok non mi sembra che ci sia ok che vuol dire della sua fase un gioco uscito più di anno fa quindi qui troverete si dei giochi in tanti giochi nuovi e quello che vi pare ma i giochi di maggior successo su questo tipo di catalogo usciranno dopo sei sette otto mesi un anno quindi non lo prendete come sostitutivo al gioco a gioco al day one aspetto due mesi e me lo trovo qua no non sarà così cioè questo no questa piattaforma a mio avviso a mio avviso come mio pensiero serve per mi piace raid 4 perfetto vado ci gioco un mese mi faccio l'abbonamento pago 4 euro e scarsi mi faccio l'abbonamento gioco al raid 4 ok fino a che non mi rompo le palle che è un giocone raid 4 ma è uscito a gennaio dell'anno scorso lo gioco mi fino a che mi diverto poi dopo finisce l'abbonamento arrivederci grazie ok voglio giocare altro gioco a death stranding perché non ci ho mai giocato oppure perché lo voglio finire l'ho lasciato a metà che cacchio ne so ok lo faccio ci gioco fino a che mi diverto e poi fine voglio finire miles morales ci gioco perché che ne so ho giocato al primo ci gioco lo finisco e fine ma a mio avviso non è un abbonamento che tu fai per sostituire delle novità ok cioè non ti fai questo abbonamento per dire va bene al posto di avere il gioco fisico al day one e spendere 80 euro mi trovo il gioco qua dentro sul catalogo ci gioco qua ho risparmiato dei soldi e faccio abbonamento a 4 euro no non è così non sarà così quindi fatelo con la coscienza a mio avviso di giocare ad un catalogo di giochi recenti ok ma che dal day one quelli di maggior successo a che li troviate qua dentro passando 6 7 8 mesi un anno dipende ok non vi aspettate che ora quando uscirà thor buonanotte quando uscirà god of war ragnarok quello nuovo non vi aspettate che lo troverete qui dopo un mese o dopo due mesi ok quindi fatelo con la coscienza del fatto che avete dei giochi nuovi ma non giochi a po a breve dalla data di uscita del day one ok questo il premium sinceramente lo farei personalmente solo per provare un po ogni tanto magari playstation one due tre però mi rendo conto allora io sono cinque anni ho fatto una playstation da cinque cinque generazioni stasera non ci sto sto dicendo prendo numeri così a caso il sono cinque playstation da cinque generazioni ok sono playstation cinque generazioni quindi io vado a giocare un gioco playstation one lo trovo ci gioco ci ho già giocato venticinque anni fa e ok però non vado a fare il premium per giocare giochi del playstation one playstation 2 personalmente perché c'è una differenza grafica enorme magari c'è un titolo specifico non so esce is pro ok ci vado a giocare perché oppure come diciamo prima si fa un filter ci gioco un po lo finisco vediamo un attimo capitolo guardo chiaramente prendendo così azione che il gioco alla grafica bene o male del playstation 1 playstation 2 piuttosto playstation 3 esce tomb raider 2 grande caldo un grande classico ci gioco perfetto ma ripeto non vado a fare l'abbonamento premium solo ed esclusivamente per questo meglio lo faccio ma sporadicamente ok versione di gioca di prova ecco magari lo posso fare una versione di gioca di prova esce un gioco che mi interessa tipo a me che ne so può interessare potenzialmente wrestling ormai non più però diciamo potrebbe interessarmi wrestling o meglio ancora guardate ho fatto la serie su uncharted 4 remastered ok se non la siete vista andatevela recuperate sul canale divertentissima avevo già giocato su playstation 4 va bello riportato remastered per playstation 5 ho fatto una serie sul canale perfetto piuttosto che il disco fisico mi andava a fare l'abbonamento e ci giocavo c'era un senso ok facevo un mese ci giocavo e poi rivederci ok quindi che cosa vi voglio dire che l'essenzia dovete fare per forza a mio avviso l'essenzia va fatto l'extra fatelo per giocare a dei giochi fino a quando vi va ok per provare dei giochi e giocarci fino a quando non vi sbomballate ok e il premium lo fate ogni tanto se avete un gioco di che vi va di comprare ma non siete sicuri e volete provarlo e c'è lì o se vi va di farvi una partita un gioco magari classico e allora lo fate a mio avviso il premium e l'extra sono due abbonamenti che vanno fatti sporadicamente la cosa che vi sottolineo e con questo concludo non prendete il premium e l'extra a mio avviso come un come una cosa che va a equivalere il game l'xbox game pass perché nell'xbox game pass si trovano un sacco di giochi al day one e tutto quanto ok qui 99,9% questo non accadrà punto spero di avervi illustrato tutto un pochino nel dettaglio cioè vi ho dato i punti più importanti del nuovo abbonamento ho cercato di spiegarvi quello che sono quelli che sono i punti secondo me di maggiore attenzione le cose che possono essere che vale la pena valutare e le cose che no spero che questo video vi sia vi sia di aiuto perché sono sicuro che in giro si trovano un sacco video sponsorizzati quindi vi dicono a bello premium ma extra guarda questo guarda quello trovate qui questo trovate qui quello si è vero ragazzi ma ma ripeto per me da qua a giocare un gioco al day one dopo un mese ce ne passa parecchio cioè qui di giochi al day one ne trovate secondo me dopo 7 8 9 mesi un anno perché ripeto ci sono giochi del calibro di the last of us di god of war che comunque hanno successo per parecchio tempo garantito che qui gratis prima di trovarlo gratis insomma facendo l'abbonamento prima di trovarlo passerà parecchio tempo ok detto questo ragazzi vi lascio adesso con il trailer del gioco anteprima assoluta che vi aspetta la prossima settimana sul canale non mi resta che salutarvi un saluto dal vostro denar man vi do appuntamento alla prossima rubrica denar zone ciao no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.